Buschè, cillesene, cillesene, c'è stampa delle due nazionali, e voi fate queste buffonate, ma io speciale, quello non ha fatto niente, stava tipo a fare respirare l'ascella, sei mesi di squadra, poi vedi, insieme ad unisono, sai questo che mi fa capire, che c'è una preparazione allo spa, cioè peccate così contemporaneamente, sono stati i Ducati proprio, come le pericolte, sta Juve, a me è Juve, no, c'è il Barcellona questo, il Levante, tra l'altro sconfitta, ma che sta succedendo, che sta succedendo, che sta succedendo, il PSG ha perso con gli operai, sono le nuove leve, c'è stato, Barcellona ha perso con l'Evante, a questo punto mi aspetto che la Roma perda quello in te, ma aspetto, no, 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 non lo fa, è finito il ciclo del Barcellona reale, stanno ricostruendo, ricostruendo, invece sta emergendo la Roma, che, a Roma, la Roma, la Roma, le Bayer, lui è un antiromanista purtroppo, non la vedo scusa, io per primo, non è vero, è la Juve, ma fa finta di non essere la Juve, dicendo che la Juve ruba, fa finta, io ce l'avevo, è un malato, che avevo l'occhio, io ce l'avevo un album da piccolo, Ramanini, c'ha scritto Viva Roma e Viva Sampdoria, pensate, ah, e poi che è successo? niente, così, le simpatie, sono di Roma, andata a Roma, ok, mi piaceva la maglietta, la maglietta è bellissima, forse è una delle più belle, bello con questa banda, mi piaceva, veramente, avete veramente una bella maglia, godetevela!